Buonasera a tutti e benvenuti ad Attenti all'Umo. Stasera parliamo dell'aceto, quanto è importante e come riconoscerlo, c'è quello classico, balsamico, di mele, insomma ci sono tante tipologie. Stasera vi daremo anche delle indicazioni abbastanza precise, anche per trovare quello che sicuramente ci fa bene, fa bene alla nostra salute, ma anche alle nostre tasche. Come sempre ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti. Buonasera alla dottoressa Carla Guerra, dietista nutrizionista, Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Buonasera a Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. E allora partiamo subito dalla lettera, come sempre Maris, buonasera. Buonasera, buonasera a te Giuseppe, ai nostri esperti e ai nostri amici che ci seguono da casa. E allora, come sempre lo sapete, per i pochissimi ormai che non lo sapessero già a memoria e non l'avessero segnato, ricordo il nostro numero verde, 800-508-990, è gratuito per i telefoni fissi e immobili. E in questo modo, chiamandoci a questo numero, potete partecipare alla diretta. Se trovate occupato, non esitate, continuate a chiamare perché passeremo tutte le vostre domande, anche le domande che ci manderete su Facebook o su Twitter. Come anche passiamo alla domanda, ovviamente, che ci ha mandato la signora Maria da Bari, che dice Cari amici, d'attenti al lupo, da qualche anno in cucina uso esclusivamente aceto di mele. Mi sono convinta, dopo aver sentito parlare tante volte delle sue grandi qualità e proprietà benefiche. Però, parlando con un'amica, ho saputo che questo tipo di aceto interferisce con alcuni medicinali e non è adatto ad alcune persone. È davvero così? Mio marito prende dei farmaci per il cuore, può usarlo o ci sono delle controindicazioni? Grazie del vostro aiuto e aiutiamo subito Maria, soprattutto il marito. Dottoressa Guerra, che risposta possiamo dare? Possiamo dire che l'aceto di mele è un ottimo prodotto, è un pochino meno acido rispetto all'aceto di vino e è considerato un pochino più salutistico rispetto agli altri, ma in realtà non c'è nessuna evidenza scientifica che ne comprovi l'essere migliore rispetto ad altri tipi di aceto. Per quanto riguarda l'interferenza con i farmaci, anche qui non ci sono evidenze scientifiche, per cui possiamo dire al marito della nostra ascoltatrice di utilizzare un paio di cucchiai di aceto tranquillamente per condire i suoi piatti. Assolutamente, assolutamente sì. Bazzana, come siamo messi nel nostro paese? Perché noi poi vedremo un servizio, attenzione vi faremo vedere con le nostre telecamere, insomma un aceto di grande qualità e grande livello, ma importiamo aceto o siamo capaci anche di esportarlo? Riusciamo ad autoprodurre l'aceto nel nostro paese lungo la penisola? Sì, noi abbiamo una produzione di aceto d'eccellenza con alcune punte rinomate che sono sicuramente rappresentate dall'aceto balsamico tradizionale di Modena e quello di Reggio Emilia. Poi abbiamo degli altri aceti che comunque hanno anch'essi una rinomanza notevole, tanto è vero che ad esempio l'aceto balsamico IGP viene esportato un po' in tutto il mondo, viene destinato in 120 paesi differenti. Quindi abbiamo comunque un'esportazione importante, c'è anche un po' di importazione. Ci dice la differenza tra IGP, l'indicazione geografica protetta e il DOP? Beh, in questo caso, nel caso specifico dell'aceto. In questo caso sono due denominazioni riconosciute dall'Unione Europea in cui nella DOP c'è un legame stretto, assoluto, fra il luogo di produzione della materia prima, il territorio e il luogo di trasformazione e di affinamento del prodotto, mentre invece nel caso dell'IGP il legame con il territorio per quello che riguarda la materia prima non è così assoluto, per cui la materia prima può provenire anche da altri territori diversi da quelli in cui viene poi ottenuto l'aceto. Tante, tantissime sono le tipologie. Beh, le scopriamo insieme e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Vediamo la scheda preparata da Melania Giacomo. L'aceto è uno tra i condimenti più importanti della nostra cucina e fare i giusti abbinamenti non è sempre scontato. Facciamo chiarezza. L'aceto di vino lo conosciamo tutti. Può essere di vino rosso, di gran carattere, che si sposa bene con le carni rosse, oppure di vino bianco, meno profumato ma più gentile, ottimo per pesce e crostacei. L'aceto di malto, ottenuto da birra a cui non è stato aggiunto l'uppolo, è principalmente diffuso nei paesi in cui la bevanda alcolica più consumata è appunto la birra. Ha un gusto corposo e aromatico ed è ottimo per marinate, insalate, carne e pesce e soprattutto per insaporire le patatine fritte. Famoso per le sue presunte proprietà benefiche, come del resto tutti i tipi d'aceto, c'è poi l'aceto di mele, con un profumo che ne ricorda il frutto e un'acidità media e che si abbina bene a insalate, a foglia tenera o a macedonie di frutta. Non particolarmente conosciuto, ma probabilmente il più antico aceto del mondo, è l'aceto di miele, con profumi intensi e decisi, adatto ad accompagnare carni bianche arrosto, ma anche piatti a base di pesce. E se ancora non siamo riusciti a farvi venire l'imbarazzo della scelta, la menzione è d'obbligo per l'aceto balsamico. Nelle sue varianti tradizionale, prodotto DOP delle province di Modena e Reggio Emilia e ottenuto dal lungo invecchiamento del mosto cotto di uva, è il più diffuso aceto balsamico di Modena IGP, che invece non richiede lungo invecchiamento e che vediamo adoperato ovunque, dalla carne alla caprese, dal gelato alle fragole. Questa è gran parte degli aceti che abbiamo trovato, abbiamo scovato. Dottoressa, noi immaginiamo sempre l'aceto sull'insalata, in maniera molto facile, semplice da utilizzare come condimento. Non è così? Che abbiamo visto anche le carni. Il pesce può trovare giovamento dall'aceto? Assolutamente sì, perché l'aceto ha un bouquet di aromi, profumi, sapori, proprio legati alla presenza dell'acido acetico, dell'acido tartarico, che conferiscono alle pietanze una marcia in più. Sull'insalata che cosa bisogna mettere? Ci si può mettere tutto, dall'aceto balsamico all'aceto di mele, è indifferente, dipende dal corso personale della persona. Bazzana, invece, quando andiamo a comprare, che cosa guardare? Noi siamo un po' abbastanza attenti all'etichetta, sempre, in questa trasmissione. Lei poi ci aiuta sempre nel districarsi. Anche in questo caso io credo che l'etichetta sia comunque un elemento guida fondamentale, perché per distinguere innanzitutto le differenti tipologie di aceto, ma anche quella che è l'ingredientistica, ovvero sia gli additivi che sono stati aggiunti. L'aceto balsamico tradizionale di Modena, ad esempio, non ha aggiunte. L'aceto balsamico IGP si può aggiungere fino a un 2% di caramello, che serve per dare un colore più uniforme. In quell'altro caso il colore è dato dal mostro e dall'invecchiamento molto prolungato. In altri casi abbiamo degli aceti che hanno delle aggiunte di aromi, aggiunte di altre sostanze, per cui leggendo bene gli ingredienti possiamo valutare anche quelli che possono essere eventuali controindicazioni per la nostra salute, determinate magari da alcune aggiunte a cui non siamo proprio predisposti. Il prezzo è un po' come quello dell'olio? Non deve essere troppo basso, altrimenti è sintomo preoccupante di scassa qualità di quell'aceto che acquistiamo? Qual è il prezzo medio? Il prezzo basso è sempre un sintomo preoccupante, a meno che non ci siano dietro delle strategie commerciali, il prodotto non venga utilizzato come il prodotto civetta. È chiaro che nel caso del top di gamma, ovvero sia dell'aceto balsamico tradizionale, qui il prezzo è veramente sostenuto, ma perché il prodotto è fuori gara, nel senso che è tutta un'altra cosa. Quando si parla della DOP si parla di un qualcosa di cui ce n'è pochissimo, vale tantissimo, ma ha una resa che è veramente eccezionale. Andiamo a casa dei nostri telespettatori. Esattamente Giuseppe, andiamo a Treviso a casa del signor Mauro, ci ha chiamato. Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo fare una domanda alla esperta, alla dottoressa. E volevo chiedere, per chi soffre di acidità di stomaco, è da escludere dalla dieta l'aceto? Grazie, grazie Mauro. Dottoressa. Allora, l'acidità di stomaco è legata a molti fattori e in alcuni periodi dell'anno tende ad acutizzarsi, per cui quando abbiamo una remissione della patologia possiamo utilizzare un cucchiaio di aceto per condire per esempio la nostra insalata, mentre invece quando questa gastrite o questo reflusso è in fase acuta è bene evitare l'utilizzo dell'aceto, di qualunque tipo di aceto. Ecco, quali sono le altre patologie per cui è meglio evitare sostanzialmente l'aceto? Essenzialmente per queste patologie gastriche, appunto il reflusso e l'acidità di stomaco. Poi ci sono delle patologie invece che ne traggono beneficio. Quali sono? Diciamolo subito. Per esempio, aggiungendo dell'aceto possiamo ridurre la quantità di sale nel condire le nostre pietanze, quindi chi soffre di pressione ne può trarre beneficio, così come pazienti epatopatici che hanno sempre il dubbio di non poter prendere l'aceto perché lo associano al vino, ma l'aceto non ha alcol, per cui nei pazienti epatopatici che devono fare dieta iposodica è bene utilizzare l'aceto. Le domande da casa, Maris. Allora, ne stanno arrivando diverse. Allora, innanzitutto volevo passare questa domanda che ci ha mandato Vilma via mail e dice quando compro l'aceto biologico, ecco, all'interno muovendo la bottiglia si vedono dei pezzettini. Volevo sapere, quella è garanzia di bio naturale o in realtà è da diffidare? Cosa sono quei pezzettini che vediamo dentro la bottiglia? Ma è solo quello che può essere il residuo del processo di produzione, non è una garanzia, nel senso che evidentemente è un prodotto che non è stato filtrato e quindi da quel punto di vista lì contiene delle parti che residuano dal processo di produzione. È un po' come il succo di mele torbido, cioè ci sono dei prodotti che sono stati filtrati e quindi hanno un aspetto più limpido, altri prodotti sono stati mantenuti più grezzi. Bazzana, per quanto riguarda la conservazione, sappiamo che per le bottiglie d'olio devono essere scure, insomma è una caratteristica per tenere nel migliore dei modi. Per l'aceto ci sono delle indicazioni precise e anche a casa dove conviene insomma tenerle queste bottiglie di aceto? Beh, è chiaro che come tutti gli alimenti vivi, gli alimenti che hanno comunque una conservabilità limitata, hanno delle caratteristiche organolettiche che noi apprezziamo, bisogna evitare gli sbalzi di temperatura, bisogna evitare il troppo caldo, il troppo freddo, la luce solitamente è sempre un nemico perché tende comunque a ossidare, tende comunque a ridurre alcuni degli elementi che possono essere preziosi contenuti nel prodotto e quindi queste sono grossomodo le indicazioni. Non bisogna mai esagerare, vero dottoressa? Perché a volte tendiamo a esagerare, anche sull'insalata ne mettiamo tanto, invece la quantità è fondamentale, no? La quantità è un paio di cucchiai al giorno e di fidare di quelle cose che si leggono sul web, tipo due bicchieri al giorno di aceto fanno dimagrire, mi raccomando, anzi rischiamo oltre di rovinare lo stomaco anche di rovinare lo smalto dei denti. È chiaro che nel caso del prodotto dopo di cui parlavamo prima parliamo di gocce, non più di cucchiaio, di bicchieri. Anche perché se no bisogna, ci vuole un mutuo, altrimenti vedremo tra pochissimo perché siamo andati un po' nella patria dell'aceto balsamico, tra poco andremo con le nostre telecamere e attenzione, altrimenti due bicchieri al giorno è là che fanno male alla salute, ma come diceva Bazzana, bisogna sottoscrivere un mutuo in banca. Maris, una domanda? Un'altra domanda, Alessandro su Facebook ci scrive, a me piace molto l'aceto di mele e voleva fare questa domanda, guardando in un reportaggio dicevano che l'aceto in commercio nei supermercati è pieno di zucchero e altre sostanze, per cui la percentuale di aceto è minima e quindi voleva sapere se in realtà deve diffidare da quelli del supermercato e se mai dove comprarlo. Per legge il prodotto deve essere etichettato con gli ingredienti, quindi se ci sono degli ingredienti sovrabbondanti rispetto a quello che dovrebbe essere e la tipologia di prodotto devono essere riportati in etichetta. Quindi leggendo gli ingredienti e leggendo le informazioni nutrizionali può capire se ci sono zuccheri aggiunti, se c'è un contenuto di zuccheri elevato e quindi fare la scelta per quelle che sono le sue esigenze. Prima di vedere l'aceto balsamico italiano veramente DOP, è il momento del vero-falso? È il momento del vero-falso, io vi dico, visto che tantissimi stanno facendo domande sull'aceto di mele, l'affermazione è la seguente, ossia che l'aceto di mele contribuisce a migliorare la salute della pelle perché è ricco di sali minerali. Lo sapevate? Ma sapete se è vero o falso? Scopritelo tra poco. Entriamo in studio, stiamo parlando dell'aceto e tante sono le domande. Maris, però noi partiamo da un'affermazione. Esatto, l'affermazione è la seguente, ossia che l'aceto di mele contribuisce a migliorare la salute della pelle perché è ricco di sali minerali. È vero? Dottoressa, ci dia questa notizia, positiva o negativa? È negativa perché effettivamente è falso, perché i sali minerali nell'aceto sono veramente in tracce per cui non ha proprio tutte queste proprietà positive sulla pelle, per la pelle. Bazzana, quanto è importante il tempo? Sapere aspettare l'aceto di qualità? Ha bisogno di tempo e tra pochissimo andremo a vedere quello di Modena. Beh, nel caso dell'aceto di Modena o di Reggio Emilia parliamo di due step di invecchiamento, un primo step a 12 anni, un secondo step a 25, poi oltre 25, per cui parliamo veramente di quasi una vita. E quindi è un prodotto che si ottiene da questa stagionatura, da questo affinamento così lungo, così prolungato che dà il risultato finale. Altra cosa sono altri aceti che invece accelerano il processo di produzione e poi utilizzano altri ingredienti che danno un risultato finale che sembra simile ma è una cosa completamente diversa. E allora, la curiosità ce l'abbiamo, siamo andati sul territorio modenese, abbiamo sentito il presidente del consorzio tutela aceto balsamico tradizionale DOP e alcuni titolari di antiche acetaie sul territorio. Vediamo il servizio. La nostra tradizione familiare è molto lunga, ma in generale a Modena ci sono molte famiglie che producono aceto balsamico tradizionale in casa. Il padre avvia la batteria, quindi la filiera produttiva, per il bambino che nasce. Quando si forma una nuova famiglia, la batteria personale viene donata al figlio. Al termine dei 25 anni di invecchiamento da questo barile possono uscire 15 bottiglie di aceto balsamico tradizionale DOP. Il comparto del balsamico a Modena è previsto appunto dall'aceto balsamico di Modena IGP, che ha una settantina di aziende. Fanno oltre 100 milioni di litri per un valore commerciale dai 700-800 milioni di euro. L'ADOP sono 260 produttori piccolini che fanno all'anno circa 10.000 litri per un valore al commercio di circa 5 milioni di euro. La bottiglia che fu disegnata da Giugiaro nel 1987 distingue l'aceto balsamico tradizionale da tutti gli altri aceti nel mondo. È ottenuto soldo esclusivamente da mosto di uva cotto dalle uve delle province di Modena, mentre l'aceto balsamico di Modena IGP è una miscela di aceto di vino e il mosto di uva cotto o concentrato cotto. Viene lasciata a riposare in contenitore di legno per almeno 60 giorni, mentre l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP deve essere invecchiato oltre 12 anni. L'IGP va da 1 euro a 2, 3, fino a 10 euro al litro. La DOP va da 500 euro al litro per i 12 anni a oltre 1.000 euro al litro per l'extravecchio, che ha oltre 25 anni. Sfatiamo un mito, sembra più costoso, ma in realtà non lo è. Questo lo possiamo dire, perché l'aceto balsamico tradizionale va centellinato, quindi ne bastano veramente due o tre gocce. Noi produciamo aceto balsamico tradizionale, poi circa due annetti fa abbiamo dato vita ad una linea di cioccolateria di lusso, gli vengono fusi insieme tre forme di oro. L'oro nero, il cioccolato, l'oro nero di Modena, l'aceto balsamico tradizionale, è coperto di vero oro 22 carati, si sposa bene con il parmigiano reggiano, con i tortelloni di ricotta e oppure con le fragole, che è uno degli esempi più famosi. È sicuramente un nettare, un balsamo ed è sicuramente eccezionale. Bazzana, questa è l'Italia, in qualche modo, no? Tradizione, passaggio generazionale, qualità, collegamento con i sapori. Davvero è straordinario questo servizio che riesce a mettere tanti aspetti in cibo. L'eredità che viene passata ai figli per i quali viene attivata la batteria ad ogni nuova nascita, quindi è quasi veramente un passaggio di testimone. Certo, ci ha sconvolto il prezzo, abbiamo sentito quello dopo, 500 euro almeno al litro, ma dicono che c'è qualche aceto anche più costoso, l'aceto di champagne, ma non è la stessa cosa, dottoressa? Assolutamente no, non è la stessa cosa, il Made in Italy è il migliore. Poche gocce, però, poche gocce come ci diceva Bazzana all'inizio. E allora, le domande? Allora, tantissime sono le domande. Gianni Dabrindisi intanto ci ha chiamato e ci ha raccontato che lui ha l'epatite C e quindi gli hanno sconsigliato di assumere aceto di qualsiasi tipo perché coagula il sangue, voleva avere confermo o smentite. Questa notizia non è proprio vera, non è così. Il nostro ascoltatore può tranquillamente utilizzare l'aceto per condire i suoi piatti, anzi, questo ne migliorerà l'appetibilità e quindi anche il suo stato di salute ne trarrà beneficio. Ancora domande, Maris? Ancora domande? Beh, innanzitutto Francesca su Facebook ci manda un messaggio e dice voleva avere delle lucidazioni sulla glassa dell'aceto balsamico menzionata diverse volte perché contiene sostanze ritenute cancerogene tipo il caramello e il colorante. Ecco, voleva sapere quanta verità c'è. Ripeto, lì va sempre visto quelli che sono gli ingredienti. Parliamo di aceto, poi evidentemente questo sarà un aceto immagino di tipo industriale quindi bisogna vedere quali sono gli ingredienti industriali che sono stati utilizzati. Teniamo presente che determinati ingredienti possono appunto, non so, la fumicatura piuttosto che l'utilizzo di alte temperature, la caramellizzazione possono portare anche a, diciamo, delle sostanze indesiderate nella loro formazione. E la scadenza bazzana come funziona nel caso dell'aceto? Bene, nel caso dell'aceto è chiaro che se parliamo dell'aceto balsamico tradizionale che abbiamo visto prima non esiste scadenza se conservato adeguatamente perché abbiamo visto che è un prodotto che invecchiando migliora, invecchiando tende appunto a sprigionare delle proprietà. È chiaro che come tutti i prodotti va conservato in maniera adeguata. Se apriamo la bottiglietta, la bottiglietta va mantenuta chiusa, va mantenuta a una temperatura adeguata, niente sbarzi di temperatura e soprattutto, ripeto, la luce. E ci diceva un'esperienza particolare, poche gocce di... Sì, poche gocce, ripeto, è un'esperienza da provare. Da provare, anche se costa tanto, però una volta bisogna in qualche modo sapersi disciplinare. In questo modo abbiamo risposto anche a Rita Marta che su Facebook ci diceva che lei è un aceto di Modena da più di 40 anni, ecco, quindi se l'ha tenuto bene lo può sicuramente consumare. Un'altra, altre osservazioni invece ci arrivano su Facebook o meglio anche dei suggerimenti. Cristina, ad esempio, ci racconta che lei usa tantissimo l'aceto di vino bianco. Insieme al bicarbonato, ad esempio, ci dice è ottimo per togliere il calcare dai vetri, soprattutto di quelle della doccia. Dice invece per l'alimentazione usa l'aceto classico perché il papà lo compra direttamente dal... E allora, ci lo chiediamo alla dottoressa Guerra, anche da, insomma, a casa è così, che ha questi utilizzi diversi? Sì, l'aceto ha molti utilizzi a livello casalingo, sia per l'igiene, appunto, per togliere il calcare, ma anche nella conservazione dei cibi, no? Può essere utilizzato perché ha un'attività battericida e quindi l'aceto ha moltissimi utilizzi. Ancora domande, Maris? Ancora, Simona su Facebook sempre ci racconta che lei utilizza tantissimo l'aceto di mele biologico. Dice, un cucchiaio in un bicchiere d'acqua è utilissimo per la caduta di capelli fuori stagione, per le unghie che si sfaldano, insomma, facilmente. Voleva sapere, insomma, se era giusto o meno. E dice invece, mentre l'aceto bianco in casa è ottimo per pulire, insomma, l'argenteria. Ecco, questa distinzione. L'aceto di mele fa bene alla salute e viene utilizzato in questo modo? Allora, tutte queste proprietà attribuite all'aceto di mele, come ho già detto all'inizio, non hanno un'evidenza scientifica che le possa comprovare. Per cui ci fidiamo, sicuramente male non fa un cucchiaio di aceto sciolto in un bicchiere d'acqua, però la veridicità di queste affermazioni non è scientificamente comprovata. Ancora, un'altra domanda, invece, Giulio ci manda una mail e ci dice, ma dopo aver visto questo servizio, insomma, capiamo anche l'importanza dell'aceto di Modena, dice, come mai, insomma, così, c'è una lunga lavorazione dietro e al supermercato vedo dei prezzi molto accessibili, ecco, quindi dovrei diffidare in realtà? Beh, lui probabilmente, l'ascoltatore confonde probabilmente l'IGP con la DOP, nel senso che l'IGP riporta aceto balsamico di Modena, ma non è aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, quindi la differenza è data dalla, diciamo, dalla denominazione. È chiaro che l'IGP ha un processo, per carità, interessante, l'abbiamo sentito anche nel servizio, ma è molto più veloce, bastano 60 giorni, e quindi ha delle qualità migliori dell'aceto che non ha una denominazione, però è sicuramente inferiore, sia come prezzo che come lunghezza della lavorazione, a quello che è l'aceto DOP, per cui è proprio due prodotti dal punto di vista biologico completamente differenti. Dottoressa, abbiamo sentito tante tipologie di aceto, vedo tra l'altro, c'è addirittura l'aceto di uva passa, l'aceto di pera, insomma, tante tipologie. Come bisogna, insomma, muoversi in questo ambito? Ma la scelta è... Si va più sul tradizionale, siamo più tranquilli. Si va sempre sul tradizionale, però ci sono persone che amano conoscere nuovi sapori, nuovi gusti, per cui si possono... Anche perché sono aceti un po' particolari, nel senso che ci sono anche dei produttori agricoli che sono messi a fare aceto con substrati zuccherini diversi, come appunto la frutta, ma utilizzano un metodo molto più lento, in modo tale che tutti gli aromi e tutti i sapori possano essere conservati, e questa è la differenza. Altro quesito, Maric. Maria, Maria voleva sapere, chi dei vostri ospiti in studio mi sa dire, mi sa dare questo consiglio, come far diventare aceto il vino avanzato? Questa è una domanda un po' curiosa, perché solitamente tutti vogliono sapere come non far diventare aceto il vino di qualità che magari hanno in casa, a parte gli scherzi, io non mi metterei a fare acetificazione casalinga, cerchiamo di bere il vino al momento giusto e non farlo diventare aceto. C'è chi produce ottimo aceto. In conclusione, l'abbinamento che preferisce la dottoressa Guerra, Carla Guerra, dietista nutrizionista Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzane in Roma, con l'aceto, quale tipologia di aceto e quale piatto, proprio rapidamente? Una bella tagliata con un aceto balsamico tradizionale DOP di Modena. Lorenzo Bazzana, responsabile economico col diretti, ci dica una cosa particolare. Tutta la vita, aceto balsamico tradizionale DOP di Modena o di Reggio Emilia, congelato alla crema. Congelato alla crema, e come sempre Bazzana non si smentisce mai. La chicca finale di Lorenzo Bazzana. Grazie davvero ai nostri ospiti, chiudiamo statera qui, Maris. Per questa sera è davvero tutto, sbizzorriamoci anche noi a casa, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, un saluto speciale ad Alessandra, da Anzio a lei, veramente un abbraccio di cuore, vi auguriamo buon proseguimento e attenti al lupo, torna domani alle ore 19 per parlare di bollette a ribasso. È davvero così? Lo scopriamo domani, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.